Eccoci qua a un momento del tutto informale, ma nel quale io vorrei approfondire un tema secondo me molto importante. Molto importante a chi interessa questo genere di cose, ovviamente. Stiamo parlando di diversi temi che ora metterò in una sintesi. Possono essere anche diversi corsi per chi volesse intraprendere questo studio, se fatto bene. O comunque sono temi che sono separati fra loro, ma volendo e anzi potendo sarebbe meglio, andrebbero poi uniti. E sono i temi della dizione, della tecnica vocale e della lettura ad alta voce o reading, che dir si voglia. Dunque, oggi sono temi da una parte abbastanza fuori moda, purtroppo mi viene da dire, però da un'altra parte ho notato che invece c'è un interesse abbastanza spiccato, anche da parte proprio di persone che semplicemente amano la lettura, sono appassionati lettori, hanno voglia di approcciare questo genere di cose, oltre a chi studia teatro, oltre a chi così, magari ha questa passione per sue esperienze personali. Perché fuori moda? Fuori moda perché fino a un bel po' di anni fa, non pochi, era d'obbligo avere una perfetta dizione della lingua italiana, un buon uso della voce, l'ho detto apposta, e un buon approccio a queste cose per chiunque parlasse in pubblico, soprattutto in televisione, l'annunciatrice degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, già iniziava un po' cambiare l'aria, fino a arrivare a oggi, ecco, il lettore del telegiornale, oltre all'attore, al cantante, insomma, dal teatro, dalla forma artistica più colta, alla situazione più fruibile e alla portata di tutti, per tutti quanti c'era un pochino questo obbligo, diciamo, comunque si richiedeva, veniva richiesto un buon uso, non solo un buon uso della voce, ma un buon parlato. Ad oggi, e da parecchi anni, non è sempre così e non è più così. Lo avrete notato, cioè il lettore del telegiornale spesso ha un accento regionale, anche molto spiccato, ma lo stesso vale per la canzone, il cantante, anzi, spesso l'industria cosiddetta musicale richiede che il cantante Picco Pallino parli come parlano i giovani di, non so, Cinisello Balsamo, piuttosto che di qualsiasi altra località italiana, perché viene percepito come maggiormente vicino a chi lo ascolta, ecco. Però, ciò nonostante, al di là delle opinioni personali, ora non vi sto a dire le mie, anche se sono abbastanza intuibili, al di là delle opinioni personali, chi desidera fare reading, quindi fare letture in pubblico, chi desidera approcciare il teatro, approcciare il canto. Ma, in questo particolare senso, mi sto riferendo a chi desidera anche, ecco, registrare audiolibri, mi è capitato, più di una persona che faceva o era interessata a questo genere di cose, che si occupa di tutta una serie di tematiche che richiedono il buon parlato, che portano su un palcoscenico, eccetera, eccetera, palcoscenico reale o virtuale che sia, hanno necessità di studiare queste materie, al di là che poi decidano scientemente e con la propria testa di utilizzarle, qui sì e qui no, di utilizzarle tutti i giorni o solo in certe occasioni, di utilizzarle in questo contesto sì, in questo contesto no, invece tutto più colloquiale, che va benissimo anche anche questa scelta qua. Premessa, io mi occupo principalmente e anche di canto e di tecnica vocale del cantato e di tutto il mondo della voce, di sperimentazione vocale, anzi quello è proprio per me è un pilastro fondamentale, ma qui io sto parlando in modo specifico invece di parlato. Citavo i cantanti solo perché se un cantante, una persona vuole cantare, dal mio punto di vista, se vuole avere una buona cultura e vuole potersi esprimere sotto più punti di vista, è bene che se deve cantare anche in italiano, insomma, si aggiusti un pochino anche l'italiano, ecco, al di là che poi vuole cantare con la parlata di quartiere, ecco, per sua scelta personale, ma lo dico sempre, in ogni ambito, un conto è la scelta, io scelgo di fare così perché mi piace, perché è mio piacere, mio interesse, mia necessità fare così. Un conto è fare così perché non so fare altro. E beh, c'è una bella differenza, eh? Quindi tornando ai lettori, ai parlatori, ai narratori, ripeto, e poi insegno teatro, faccio teatro e questo aspetto della recitazione, poi, ripeto, ha in sé mille altri aspetti creativi che non si fermano, certo, soltanto all'addizione, che anzi non è il primo step dal mio punto di vista, però ora soffermiamoci solo sul parlato, quindi. Persone che vogliono fare reading, chiamano la lettura ad altavoce, persone che vogliono registrare audiolibri, studenti di teatro, studenti di canto e chi per suo piacere personale, persone che parlano in pubblico e vogliono parlare in pubblico bene, che ci tengono ancora questo genere di cose, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste persone ed altre, è bene che si interessino allo studio dell'addizione, della tecnica vocale, ok? E della lettura, e della lettura. Perché dico e della lettura? Allora, l'addizione della lingua italiana riguarda lo studio dell'addizione della lingua italiana, già lo dice il termine in sé, che riguarda la correzione delle pronuncia, delle vocali, di certe consonanti, insomma, di tutte delle parti fondamentali del parlato che devono togliere un'inflessione di tipo provinciale, regionale, cittadina e portarle da un punto di vista di quella che è l'addizione, diciamo, neutra, pulita il più possibile, pur con personalizzazioni di sorta che io non disdegno affatto. Comunque, della lingua italiana, ok? Questa è l'addizione, è lo studio dell'addizione e quindi è questo. Altro è lo studio della tecnica vocale, anche se spesso si trovano manuali che uniscono dizione e tecnica vocale, corsi, dizione e tecnica vocale. Io stessa a volte faccio proposte di dizione e tecnica vocale. Sì, però mi concentro di più sulla dizione e la tecnica vocale, poi un percorso che va approfondito altresì nel tempo, però sono due materie diverse che, diciamo, che in un momento solo farle tutte e due vanno fatte di pari passo, ma sono comunque due cose diverse che poi si uniscono, si devono abbracciare, ok? Perché la tecnica vocale vuol dire sapere usare bene della propria voce, anche nel parlato, non solo nel cantato, ma richiede esercizi di ginnastica continua, ok? E poi la lettura. Perché? Perché dico e poi la lettura? Perché l'addizione non è applicabile esclusivamente alla lettura. La tecnica vocale non è applicabile nel parlato esclusivamente alla lettura. La lettura ad alta voce è una materia, diciamo, a sé, che richiede uno studio dell'addizione, richiede uno studio della tecnica vocale, ma non solo. C'è anche un discorso di espressività sulla lettura, c'è un discorso emotivo che riguarda le emozioni e un discorso, diciamo, di tecnica che riguarda anche lì lo studio di certe tecniche che ci porteranno a fare una lettura efficace, ok? Per dare un'idea su tutte e tre queste cose. Per parlare in generale, quante volte ci è capitato di ascoltare qualcuno che leggeva male e la nostra attenzione è andata via? E ci siamo proprio completamente scollegati, sconnessi. Ma non per critica o atteggiamento negativo nei confronti di quella persona che stava leggendo, no? Ma semplicemente perché la nostra attenzione si è... Basta! Basta! Si è stufata! Ecco, perché? Perché leggere male purtroppo porta a queste conseguenze. Leggere male cosa vuol dire? Vuol dire leggere in modo frettoloso, può voler dire mangiarsi le parole, non leggere la punteggiatura, perché la punteggiatura ha un suo perché, ha un suo senso. Ecco, vuol dire leggere senza cuore, in modo inespressivo. O vuol dire magari leggere con tantissimo cuore, ma con nessuna tecnica, facendo una gran confusione, magari arriva fin troppa roba, ma mal gestita. Ecco, gli errori possono essere tanti. È importante affrontare queste cose con lo studio, perché comunque sia la lettura ad alta voce e presuppone comunque, ripeto, due punti fondamentali. Un aspetto tecnico e un aspetto emotivo, emozionale. Un forte accento regionale, non voluto, non scelto, perché se è una scelta, ripeto, tutto si può fare. Un accento forte regionale, che sia lombardo, che sia sardo, che sia siciliano, che sia romagnolo, che sia di qualsiasi parte d'Italia, possiamo citare, se non è una scelta consapevole, stona parecchio, dà quel provincialismo, dà un'impressione molto limitante e limitata, in una lettura che vuole essere neutra e pulita con la lingua italiana. Se invece è una scelta, perché io voglio leggere come un milanesotto, perché devo fare il milanesotto in quella lettura lì, e va bene! Ma perché la sto scegliendo io? Perché sono consapevole che sto utilizzando la dizione di quella particolare zona, di quella particolare parlata locale, che è anch'essa stessa delle regole di dizione. Non so se mi sono spiegata. Tutto questo, comunque, voleva essere un primo approccio, un'infarinatura, per dire che la dizione, la tecnica vocale e la lettura ad alta voce sono temi che in qualche modo vanno affrontati e studiati, se li si vuole praticare, ovviamente, non è obbligatorio, con passione e anche con divertimento, perché tante volte uno dice «Oh, non ho voglia di studiardizione, che palle, i perché, i me, i te, i questo, i quello, i codesto». Insomma, tutte quelle regole che invece io dico «Perché, me, te, questo, quello, codesto, e mi devo mettere a fare tanto esercizio per questa cosa, che palle, che palle». No, a me piace rendere queste cose in qualche modo anche divertenti. Divertenti non è per forza sempre farci una risata. C'è la risata, ci si ride anche sopra, e ci deve essere questo buon gusto del divertimento e del buon umore su queste materie qua, ma è anche divertimento nel senso che imparo qualcosa e mi accorgo di qualcosa. Allineo anche un pochino i miei emisferi cerebrali e colgo davvero un aspetto razionale e di tecnica che si va perfettamente in modo del tutto armonioso ad abbracciare un aspetto emotivo, fatto di emozioni, di sentimenti, di bellezza, di poesia. Quindi, per chi volesse informazioni su queste mie proposte che riguardano l'addizione, la tecnica vocale e la lettura ad alta voce, contattatemi, qui mi fermo perché altrimenti mi dilungo troppo. Ciao e grazie.